Nell'attesa che qualcuno ascolti finalmente il loro grido d'allarme e dia risposte concrete ai loro problemi, i disabili siciliani senza assistenza hanno deciso di scendere nuovamente in piazza e lo faranno domani dalle ore 11 con una breve marcia che dalla cattedrale di Palermo si muoverà verso Piazza Indipendenza. I disabili riuniti nel coordinamento, siamo handicappati non cretini, spiegano in una nota ufficiale le loro motivazioni. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi ad un confronto senza precedenti con le istituzioni. Sono venuti a galla anni e anni di abbandono, mediocrità, silenzi e sotterfuggi. Continuiamo ad assistere ad offese, inganni, prese in giro che offendono la nostra condizione di persone con disabilità. Noi siamo liberi e questo disturba. E ancora, abbiamo denunciato con tutti i mezzi possibilità l'iniquità, abbiamo lottato con le unghie per il diritto di tutte le persone con disabilità senza distinzione, siamo tutti fragili con bisogni diversi, siamo stati più volte a discutere con tutti i politici, i dirigenti e gli amministratori, siamo ormai sconfortati ma risoluti. Gli annunci si moltiplicano, le promesse abbondano, la campagna elettorale incombe e noi siamo diventati la merce di scambio di giochi politici che non ci appartengono. Non vogliamo più gridare, il nostro silenzio tuonerà più delle nostre urla. I disabili inoltre chiedono l'aiuto e l'intervento di tutti i cittadini siciliani. Vorremmo, scrivono ancora in una nota, che ci fosse, non dietro ma accanto alle nostre carrozzine, silenziosamente, la società civile, la Sicilia Onesta e Laboriosa, le istituzioni scolastiche e tutte le associazioni della disabilità, perché questo tema riguarda tutti. Sappiamo che non è facile convincere la politica che le varie forme e i vari bisogni delle disabilità non devono essere affrontati come un'emergenza, ma devono essere posti al centro dell'agenda, anche per le prospettive demografiche, ma ci proveremo tutti insieme, perché, come dice il Vescovo Don Corrado, se in una società c'è una persona che vale zero, il risultato sarà per tutti sempre zero. Questa è una battaglia per la dignità di ogni persona. Alla manifestazione di domani in tanti hanno già dato il loro appoggio e la loro adesione, il coordinamento H, il forum del terzo settore, la pastorale diocesana di Sabili e Confcommercio, molte le associazioni di volontariato e del mondo della cultura, e ci sarà anche PIF, già protagonista del duro faccia a faccia con Crocetta e chiunque voglia spendersi per una giusta causa.